Ciao ragazzi, bentornati in questo video blog, introduzione velocissima con due novità. La prima è che sono arrivati i premi per il concorso, quindi non ve li faccio vedere, ve li faccio vedere quando arriviamo a 500 iscritti. Seconda novità, sempre a 500 iscritti pubblicherò il secondo tutorial segreto. Continuiamo con il decimo tutorial di Munciaco. Ecco, a partire dal decimo tutorial in poi, se si tratta di maneggi con le prese, le prese saranno precedute dalla solita rotazione A8, quindi rotazione esterna più rotazione interna più rotazione esterna, a seguire dal tipo di prese che cambierà. Questi maneggi ovviamente li potete fare diretti solamente con la rotazione esterna o solamente con la rotazione esterna. Guardate il tutorial. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!